Ciao, benvenuti su Cattisia! Oggi vi darò la ricetta di un frullato goloso al latte di soia. Questo frullato è buonissimo, il suo sapore è delicato e inizierete la giornata con il pieno di energia. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare questo frullato goloso al latte di soia. Un cucchiaino di miele millefiori è un ottimo antinfiammatorio disintossicante e leggermente lassativo. Una banana contiene zuccheri naturali, potassio e antiossidanti naturali, quindi favorisce anche l'eliminazione dei liquidi trattenuti dal corpo, incrementa la vostra energia e vi aiuta contro l'insonnia, l'ansia e depressione, aumenta il rendimento fisico durante le attività sportive. 250 ml di soia Un cucchiaino di cacao in polvere e zuccherato, il cacao, si sa, dà energia e buon umore. Adesso è il momento di versare tutti gli ingredienti nel nostro frullatore. Iniziamo con la soia, 250 ml. La banana Un cucchiaino di miele e millefiori, quindi verso un cucchiaino. E infine un cucchiaino di cacao in polvere e zuccherato. Un cucchiaino abbondante. Frullate il tutto. Non perdete l'occasione di trasformare la vostra merenda in un momento goloso. Ideale per colazione o per merenda, questo frullato vi darà energia. Io spero che questo video vi piace, spero che anche voi proverete questo frullato goloso al latte di soia, credetemi è davvero buonissimo. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golosi in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. A proposito, se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golosi di Cartesia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartesia! Buonissimo!